Naturalmente abbiamo detto che Goethe era soprattutto un artista, era anche un valente pittore e quindi naturalmente trovandosi anche a Verona non ha potuto fare a meno di ammirare anche delle opere d'arte pittoriche, di cui accennerò solo di sfuggita ai quadri che ho veduto per aggiungervi qualche osservazione. E qui c'è anche una giustificazione ai motivi del suo viaggio. Io non imprendo questo viaggio meraviglioso per ingannare me stesso, bensì per imparare a conoscere me stesso attraverso i vari oggetti. Per questo dico con tutta lealtà che ben poco mi intendo dell'arte e della tecnica dei pittori. Molto umile a questo punto. La mia attenzione e la mia osservazione non possono aver di mira che il lato pratico in generale è il soggetto e il modo come è stato trattato. Ma le più squisite opere d'arte si trovano nel palazzo Bevilacqua. Un quadro, detto il paradiso del tintoretto, ma che propriamente rappresenta l'incoronazione di Maria, regina del cielo, la presenza dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, dei santi e degli angeli e così via, ha offerto all'artista l'occasione di sviluppare tutta la esuberanza di un talento molto felice. Vi è leggerezza di tocco, c'è vita, varietà d'espressione. Certo, per ammirare tutto questo e per provare una vera gioia bisognerebbe possedere il quadro e tenerlo innanzi agli occhi tutta la vita. Anche alcuni ritratti di Paolo Veronese hanno accresciuto la mia venerazione per questo artista. La collezione degli oggetti antichi è splendida. Venerare con piacere, anzi con gioia il grande ed il bello, è nella mia indole. È il potere educare questa mia inclinazione naturale al cospetto di così splendide opere d'arte, giorno per giorno, di ora in ora, è la più deliziosa di tutte le sensazioni. In un paese in cui durante il giorno si gode, ma specialmente durante la sera si prova la gioia di vivere. È di una singolare importanza il cadere della notte. Cessa allora il lavoro, la gente ritorna dalla passeggiata, il padre va a rivedere la figlia a casa, la giornata è finita. Ma che cosa sia veramente questa giornata, noi altri non lo sappiamo. In un'eterna e fosca nebbia, che sia giorno che sia notte, per noi è sempre lo stesso. Questo tempo possiamo noi veramente uscire all'aperto e goderci l'aria libera, qui invece, come subentra la notte, il giorno, che consiste nella serata e nella mattinata, è bello e finito. E poi, naturalmente, Palladio, sicuramente insieme a Raffaello, l'artista più amato da Goethe. E il 19 settembre, Goethe arriva a Vicenza, un'altra città, Veneta, sicuramente molto importante dal punto di vista artistico, due monumenti, soprattutto gli altri. Il Teatro Olimpico e gli splendidi edifici del Palladio. Si è pubblicato, dice Goethe, per comodo dei forestieri, un volumetto assai grazioso, con incisioni e con un testo che rivela intelligenza d'arte. Soltanto avendo innanzi agli occhi questi monumenti, se ne può comprendere il loro grande valore. Con la loro mole e con la loro imponenza, essi devono, per dir così, riempire gli occhi, mentre con la bella armonia delle loro dimensioni, non solo nel disegno astratto, ma in tutto l'assieme della prospettiva, sia per quello che sporge che per quello che rientra, appagano lo spirito. E questo è proprio, secondo me, il caso del Palladio, un uomo straordinario, e per quello che ha sentito in sé, e per quello che ha saputo esprimere fuori di sé. La più ardua difficoltà contro la quale questo maestro, come tutti gli architetti moderni, ebbe a lottare, è l'opportuna applicazione degli ordini nel campo dell'edilizia civile. Infatti, l'unione delle colonne e dei muri rimane sempre una contraddizione. Eppure, come egli ha saputo abilmente associare le une e gli altri, e come imporsi con la realtà delle sue opere, riuscendo a farci dimenticare che il suo scopo è semplicemente di affascinarci. C'è qualcosa di veramente divino nei suoi disegni, perfettamente come è la forma per un grande poeta, che dalla verità e dalla finzione plasma una terza cosa, la cui esistenza fittizia ci rapisce. Il teatro olimpico è un teatro su modello antico, ma in piccole proporzioni d'indicibilmente bello. Però, in confronto dei nostri, mi ha tutta l'aria di un bimbo di nobili natali, ricco, educato con cura, a fianco a un sapiente uomo di mondo, che non tanto ricco né tanto educato, sa però meglio quel che può fare con tutti i suoi mezzi. Esaminando ora sul luogo stesso i maestosi edifici innalzati da quell'artista, e notando come per le umili e ignobili necessità della vita, essi non sono al loro giusto posto, e come quei progetti sono quasi tutti superiori alle forze degli esecutori, e quanto poco, infine, tutti i preziosi monumenti di uno spirito così superiore sono adatti alla vita che si vive dai più, non si può a meno di pensare che il mondo va sempre dappertutto così. Poca gratitudine ottiene presso gli uomini colui che si studia di elevare i loro bisogni immorali, di ispirare loro una grande idea di se stessi, e di far sentire tutta la bellezza di un'esistenza veramente nobile. Solo dando da bere ai gonzi e spacciando fandonie, indulgendo giorno per giorno le loro debolezze e rendendoli peggiori, solo allora si diventa popolari, e per questo anche i tempi nostri si compiacciano di tante volgarità. Non dico questo per denigrare certi miei amici, dico soltanto che essi sono fatti così e che non si deve meravigliarsi se tutto è quello che è. Naturalmente l'impressione che Goethe riceve è attraverso un'altra città d'arte molto importante che è Padova, e naturalmente questo sarebbe molto bello poterlo leggere tutto questo percorso che va da Vicenza a Padova perché ci descrive praticamente tutte le difficoltà che all'epoca incontrava un viaggiatore del tempo. Ecco, la Vicenza a Padova, pensate, in quell'epoca ci volevano quattro ore in una carrozzina ad un posto, detto sediola, per raggiungere la Vicenza a Padova. E' un tratto che si percorre comodamente in tre ore e mezzo, ma volendo godere all'aria aperta della bellissima giornata non mi fece per nulla dispiacere che il vetturino fosse in ritardo. Si attraverso una pianura fertilissima sempre verso sud-est, fra siepi ed alberi, senza vedere nient'altro finché si scorgono finalmente a mandestra i bei monti che si protendono dall'est a sud. La stupenda posizione della città la potei godere perfettamente dall'osservatorio, a nord le montagne del Tirolo coperte di nevi e mezzo nascoste fra le nubi, a nord-ovest le Vicentine che vi si addossano. Infine verso ovest e più da vicino i monti di est, dei quali si può nettamente distinguere la struttura e le sinuosità. In occasione di questa compera sono entrato in una libreria che in Italia ha una fisionomia del tutto particolare. I libri sono tutti legati e disposti torno a torno, nella bottega si trova anche buona compagnia tutta la giornata. Tutta la gente che ha da fare in qualche modo con la letteratura, ecclesiastici, nobili artisti, vi vanno e vengono come a casa loro, fanno richiesta di libri, li consultano, li leggono e vi si trattengono al loro piacimento. Ve ne ho trovato una mezza dozzina e tutti, non appena ebi chiesto le opere del palladio, rivolsero la loro attenzione su di me. Mentre il padrone della bottega cercava il libro, essi presero a farne gli elogi, a fornirmi notizie dell'originale e della coppia e greggiamente informati dell'opera del merito dell'autore. Credendomi poi un architetto, non mi hanno risparmiato elogi per essermi dato lo studio di questo maestro a preferenza degli altri. Per la sua pratica e utilità dicevano vale più ancora di Vitruvio, perché mentre il palladio ha studiato a fondo gli antichi e il loro mondo, ha procurato di adattarsi ai nostri bisogni. Mi sono intrattenuto a lungo con questi amabili signori, mi sono fatto dare altri schiarimenti sui monumenti notevoli della città e infine mi congedai. Io direi che possiamo chiudere qui questo breve percorso artistico, questo breve viaggio in Italia, soltanto uno dei tanti viaggi in Italia che grandi letterati, grandi artisti hanno intrapreso. E naturalmente è singolare perché conoscendo la realtà di quella che poi diventerà la Germania all'epoca di John Wolfgang Goethe è chiaro come di fronte alla rigidità tipica della Germania arrivando in Italia chiaramente si incontrino delle persone completamente diverse, si affronti arte che non è solo praticamente gotica e di fatti Goethe fa una critica spietata dell'arte gotica e Goethe praticamente non fa altro che praticare un cammino che poi è stato intrapreso anche da altri grandi come Byron, come Shelley, come tutti i grandi del romanticismo inglese. Quindi questa è la dimostrazione classica di come oggi quest'Italia, così un po' disprezzata, non tenuta nella giusta considerazione, rappresentasse all'epoca per un rampollo di origini borghesi sicuramente ricco come John Wolfgang Goethe, la grande occasione soltanto non di arricchire la propria esperienza personale, la propria esperienza artistica ma anche di farne un'opera che ancora oggi ci è rimasta e che dimostra come anche nella seconda metà del 1700 quella che sarebbe diventata l'Italia era e sarà e era rimasta ancora ai giorni nostri un luogo fondamentale per conoscere ed apprezzare l'arte. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti